Da primo all'ultimo da nonco sul desto ovest ovunque voi siate grazie Da primo all'ultimo da nonco sul desto ovest ovunque voi siate grazie Grazie di cuore grazie 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 a tutti 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 Ho interrotto quindi questa che si conclude con dopo cento ore e due minuti e venti secondi entrate ufficialmente a far parte del Guinness World Record Michael Casanova, Max B, i Blues Brothers e Radio 3i sono detentori del Guinness World Record vi consiglio Grazie a tutti Grandissimi Michael Casanova, Max B, campioni del mondo, campioni del mondo Complimenti ragazzi, complimenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti